BELLA A TUTTI RAGAZZI Io spero che mi registri sto video perchè sto registrando con Camtasia perchè per registrare solo lo schermo così per fare questi video tutorial dove devo andare, devo registrare solo lo schermo del computer qui utilizzo Camtasia e se invece devo registrare i giochi utilizzo Dixory Comunque sia, premetto che questo video l'ho tra virgolette copiato da, come vi avevo già detto, no non ve l'avevo ancora detto, da Marza e Fazza Ho estrapolato, non so se si dice così, che ignoranza, dai loro video le cose essenziali e ve le riporto in questo video Partiamo subito, allora, vi lascerò in descrizione questi link dove potrete scaricarvi l'emulatore che utilizzo per giocare a Crash Bandicoot Che vi collegherà a Mediafire, vi basterà cliccare su Download Cliccate su Download, la cartella... non so più dove ce l'ho... Aspettate... allora la cartella... dove l'ho messo? Ah sì... Emulatore PSX... eccolo Vi estraete tutti i file, questo qua vi basterà cliccare qui sull'applicazione OZIS PSX Partirà tranquillamente, dopo vi farò vedere tutto quanto Ok, questo qua è per quanto riguarda il download dell'emulatore Per quanto riguarda i giochi, vi lascerò sempre in descrizione quest'altro link Che aveva lasciato anche Marza Si tratta di Crash Bandicoot 1, 2, 3, Crash Team Racing e Crash Bash Purtroppo Crash 1 e Crash Team Racing non funzionano Quindi se una volta scaricati eliminateli perché tanto vi risparmio la fatica di provare a emularli Perché tanto non funzionano Vi basterà una volta aperta questa pagina cliccare qui su Download Torrent Se non avete U-Torrent andate su Google e scrivete U-Torrent Download e lo scaricate gratis, semplicissimo Vi scaricate il Torrent Dopodiché estraete appunto i file scaricati e giocate tranquillamente a Crash Bandicoot Che vi farò vedere ora come fare A un'altra cosa prima di emulare il gioco Vi lascerò anche quest'altro sito www.emuparadise Dove potete trovare altri emulatori Ad esempio se io voglio scaricarmi Come vedete c'è anche qua Crash Bandicoot 3 Warped Basta cliccare sopra E' molto bello come sito Vi fa vedere magari qualche screenshot del gioco E aspettate Se non sbaglio Ecco vedete Top Emulators for this game In poche parole sono gli emulatori migliori per appunto emulare il gioco Se avete Windows e PSXE Se avete l'Android e PSXE Se avete il Mac Questo qui Ok dovrebbe essere tutto chiaro Passiamo a emulare il gioco Vi faccio vedere subito L'icona è questa qui E questa qui Ok Doppio clic Ovviamente Vi aprirà questa schermata Vi fate subito file Prima che parta la schermata Se dovreste averlo in lingua inglese Vi basta andare poi qui su file Qua avete Andate sulla lingua E qui cliccate quella che volete Ovviamente io ho messo italiano Poi date ok Mentre parte Tutto sto casino Fate Inserisci immagine CD Cliccate Andate a cercarvi il vostro file Mi scuso già da subito Se appena partirà il gioco lagherò un po' Ma come ho già detto Registro con Cantasi Purtroppo mi da un po' di problemi Andiamo nella cartella Dove abbiamo Crash Quello che vogliamo Crash 2 Crash 3 Crash Bash Quello che volete Cliccate su questo file qui File ccd File ccd A me lo segnerà come Con questo programma Che non mi ricordo più come si chiama Non mi viene in mente Ma non è importante A voi Anche se non lo segna con questa icona Non fa niente Fate doppio clic su questa Scusate Abbasso un po' il volume E partirà il gioco Lo mettete a schermo intero Se volete Vi darà la schermata solita Della Playstation 1 Dopodichè Partirà subito il gioco Quindi Ok Spero di essere stato Abbastanza chiaro Se Il video vi è piaciuto Lasciate un bel mi piace Commentate Se avete domande A riguardo Fatemi sapere Scrivetelo sotto nei commenti E noi ci vediamo Al prossimo video Che sarà sicuramente Un altro episodio Della Della serie su Crash 3 E nulla Ci vediamo al prossimo video E ciao a tutti ragazzi Grazie